ragazzi salve a tutti quanti buongiorno e ben trovati sono in ritardo sì ma vi faccio vedere perché ho questo in mano ho questa in mano lì c'è la spirapolvere forbici che non sono proprio adatte ma vabbè quello che è solito trovare e ho questo qui in mano con un successo sul riscaldamento della scheda video dovuto a polvere più che altro e altre cose anche del processore ora visto che non posso ancora smontare tutto perché non mi sono arrivati i pezzi dell'altro computer che devo montare eccetera per mio figlio eccetera eccetera o dicevo di dare una pulizia guardate non si vede molto ragazzi per un secondo che vedo se riesco a procurare ad arrivare alla si ci riesco ok allora faccio vedere guardate polvere d'apertura sono sede perché ho già bello pulito sto invertendo le ventole modo che siano in una ad aspirazione e una in emissione in emissione perché le inverte in questo modo per un semplice fatto una butterà aria fresca all'interno più fresca e l'altra butterà fuori aria calda perché ho fatto in modo che venga quella in fronte vedete questa qui che butta aria butta fuori aria calda e questa qui aria fredda perché la zona più di calore sarà questa qui per questa ventola qua di questa della scheda video non funziona perché sia rotta e allora il calore si sviluppa la più di qui quindi qua butta fuori aria calda che butta fuori aria fredda ragazzi non so quando finirò ci metto mettendo un po di tempo mi dispiace ragazzi tutti queste queste tutti questi disguidi in questi ultimi giorni tra la linea che non va prima del temporale italia ringrazio tra altre problematiche che non sono ripeto di pesa da me a me dispiace moltissimo ragazzi veramente tanto ma è così io adesso finisco qua e vedo se tutto l'ho fatto nel modo corretto e poi vado in live a troppo ragazzi ciao